ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Agropoli Generation. Gentili telespettatori di ANG in radio, Agropoli Generation, una nuova puntata oggi che racconterà la storia di un giovane cineasta. Si chiama Andrea Zirio, classe 86, attore, produttore, distributore, in attività dal 2006. Ma prima di parlare di lui e incontrare i giovani che faranno le domande al nostro ospite, lo salutiamo. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao Gianni e ciao a tutti. Grazie di essere e di avermi invitato. Allora, parliamo brevemente di Andrea, poi sarà lui a raccontarci con uno storytelling magari favoloso perché è molto pratico con la lingua inglese, ha lavorato moltissimo all'estero, continua a lavorare all'estero. Insomma, Andrea, la sua attività principale nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i vari lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film Ulysses a Dark Odyssey. Non so se ho pronunciato bene Andrea. C'era l'estero un po' sibilante, per il resto era perfetto. Comunque, un film internazionale del 2018 girato da Federico Alotto dove Andrea ha interpretato la parte di Ulisse, giusto? Esatto, corretto. E il film è uscito nelle sale italiane a giugno del 2018. Insomma, Andrea non solo attore ma anche produttore e poi distributore perché mi sembra che con Adrama l'ultima, diciamo, iniziativa di Andrea possiamo parlare di un interesse per far veicolare ancora di più i lungometraggi, i cortometraggi, tutto quello che è materiale cinematografico, giusto? Beh, sì, diciamo che c'è stata una crescita da un punto di vista personale e anche lavorativo, partendo come citavi tu dal 2006 quando ero focalizzato molto sulla carriera di attore, che non ho ovviamente abbandonato, che continuo, ma ho affiancato anche lo sviluppo di alcune skill che sono quelle soprattutto della produzione e poi, in seconda battuta, della distribuzione. E questo è un qualcosa che ho appreso specialmente negli Stati Uniti, dove c'è una fetta di mercato che è assolutamente indipendente, indipendente nella maniera più corretta del termine e che quindi ho cercato, piano piano, e sto cercando di portare anche qua in Italia. Quindi hai detto bene, nel senso, ho molteplici aspetti, sia come attore che come produttore, sì, distributore veramente è all'inizio, nel senso che abbiamo distribuito alcuni lavori, abbiamo attivato delle cine masterclass, le chiamiamo, e adesso siamo in procinto di costituire una società in Lussemburgo, per appunto sempre nell'ambito della distribuzione. Questa è la prima volta che ne parlo con qualcuno, è una cosa abbastanza segreta, però starà proprio nell'ambito della distribuzione. Grazie, quindi ci stai dando delle news, siamo felici perché poi appunto occupandoci di comunicazione saremo i primi magari a dare questa bella notizia, Andrea, e ci auguriamo insomma di portarla avanti, insomma che tu la possa portare avanti nel migliore dei modi. D'altronde la pandemia probabilmente, secondo me, potrà dare maggiori anche soddisfazioni perché a quanto pare tutto il mondo del cinema si sta spostando sulle piattaforme e sarà sempre più difficile insomma riprendere la modalità normale come quella di riempire magari i cinema e quindi anche questo magari, anzi questo potrebbe essere un vantaggio per chi si occupa di distribuzione online. Che dici? Beh, indubbiamente, indubbiamente. Diciamo che è una cosa che a me personalmente non piace perché credo che il contatto umano, questi famigerati assembramenti, siano fondamentali nel nostro lavoro. Chiaro che questo è un periodo un po' particolare, però spero che non si perda per la strada il fatto di incontrarsi, toccarsi, abbracciarsi, conoscersi veramente senza determinati filtri insomma che purtroppo vediamo ogni giorno. È vero anche che si possono creare più occasioni, insomma bisogna sempre cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e quindi trovare delle possibilità. Per esempio già questa intervista è un'ottima possibilità che magari in un'altra occasione non si sarebbe verificata. E proprio a riguardo di questo diciamo che noi eravamo già avanti perché i prodotti indipendenti hanno avuto maggior decollo grazie all'avvento delle piattaforme perché ovviamente una distribuzione cinematografica ha dei costi non soltanto proprio a livello economico ma anche dei costi a livello di tempo, organizzazione eccetera che sono elevati. Quindi una piattaforma ti dà un po' più di dinamicità. Quindi noi eravamo già avanti, abbiamo contrarato delle persone durante questi anni nei vari festival, nei vari market e in particolare stiamo attivando una collaborazione con dei ragazzi a Lussemburgo e lì è un paese insomma che offre tante possibilità alle start-up quindi ci sono un sacco di programmi che finanziano tutta una serie di idee se vengono ritenute valide e allora noi stiamo portando avanti la nostra che ha a che fare proprio con la distribuzione indipendente di prodotti, di film, documentari insomma quindi cercare di aprire un canale anche in questo senso. Non è equivalente a faccio il film e lo butto su Amazon Prime ma si cerca di avere una strategia d'insieme già nella fase di realizzazione perché è molto importante il concept di quello poi se vuoi ne parliamo una seconda domanda però diciamo che tutto parte dal concept per me. Assolutamente sì, infatti adesso devo schiacciare il tastino mute sulla mia bocca perché c'è Ivana che subito vuole fare una domanda a te poi tutti gli altri ragazzi Edoardo, Adelina, Alessandro, Antonia, Antonietta, Luigi insomma prego Ivana Ciao Andrea, ciao a tutti i ragazzi inizio con una domanda che magari è banale che però magari ti fa conoscere un po' di più al pubblico e chi ci ascolta qual è stato il tuo trampolino di lancio e quanto conta la bellezza e quanto ha contato per te la bellezza in questo mestiere? Allora, grazie alla domanda trampolino di lancio devo dire che è stato il lavoro che ho fatto su me stesso non ho mai avuto una vera e propria spinta i miei genitori fanno tutt'altro e non ho agganci politici o diciamo di parentela con qualcuno nel mondo del cinema e questa cosa in Italia invece ovviamente insomma ci sono dei casi però ho lavorato molto su me stesso ho cercato di perfezionarmi e di migliorarmi da un punto di vista prima recitativo poi organizzativo e produttivo cercando di non trovare giustificazioni ecco tu cosa fai Ivana? Io mi occupo di turismo di comunicazione e accoglienza ok non so quante ore extra tu dedichi per diciamo la crescita o imparare cose nuove del tuo lavoro io cerco di farlo tutti i giorni vedo che anche tu fai subito esatto quindi quella lì secondo me è l'aspetto fondamentale per riuscire ad avere non dico successo perché poi è successo una cosa che è molto personale però è delle soddisfazioni mi ricordo che vi racconto questo piccolo aneddoto ho sempre diciamo cercato di essere il primo della classe perché ho questo carattere molto egoico per cui dovevo arrivare primo sia quando giocavo a basket sia quando facevano delle competizioni e ovviamente quando ho iniziato a recitare dovevo cercare di fare il più più di tutti quindi quando c'era da preparare delle scene io la preparavo ne preparavo due, tre insomma cercavo di prendere il monologo più lungo non mi sono mai tirato indietro e pensavo di essere molto figo nel fare questo perché insomma cercavo di essere di spronarmi quando poi sono andato a studiare negli Stati Uniti in particolare a Los Angeles ho capito che avevo ancora tantissima strada da fare nel senso che sono riuscito a fare due scuole una è il Meissner Center l'altra è l'Ibana Chabok Studio e pensate che questi ragazzi ci si trovava alle otto si faceva a scuola fino alle sei di sera e poi si andava a casa dopo un po' ho scoperto che ci sono alcuni c'erano alcuni dei miei colleghi che si fermavano dopo la scuola per continuare a fare degli esercizi tra di loro una volta che ho scoperto questa cosa mi sono ovviamente aggregato il gruppo e c'erano delle serie dove si andava avanti fino a mezzanotte perché se si parla di determinazioni ci sono veramente degli esempi molto forti dopo qualche mese ho scoperto che alcuni di questi si trovavano anche alle sei del mattino e facevano allenamento dalle sei alle otto poi si facevano dalle otto alle sei di sera a scuola e poi si fermavano ancora dopo cioè era proprio un ciclo continuo loro sfruttavano questi due anni di scuola in una maniera incredibile e questa è una cosa che mi ha fatto capire molto è stato un bel esempio è una cosa che io cerco di trasmettere sempre secondo me il trampolino è chiaro che quando poi incontri l'occasione giusta la persona giusta ti può aiutare ma se in primis non ce l'hai tu dentro o non o non cerchi di violentarti per andare oltre quelle che sono i tuoi limiti le tue aspettative secondo me si fa molta fatica quindi come prima risposta ti direi quella la seconda quanto conta la bellezza secondo me la bellezza conta ma non sempre perché io sono stato escluso da molti cast da molti ruoli perché ero troppo bello tra virgolette io non mi reputo per niente una persona bella cioè sono un ragazzo piacente quello che vuoi ma secondo me i veri fighi sono altri però sono stato escluso un sacco di volte perché rischiavo di oscurare il protagonista e quindi come dire in alcuni casi non aiuta proprio nel senso che ci sono state delle situazioni dei provini che ho fatto anche con registi importanti per cui la bellezza tra virgolette o anche l'altezza erano un fattore negativo una volta ho perso un ruolo c'era scamarcio nel film e non l'ho potuto fare perché ero troppo alto e quindi avevo già passato il primo provino il callback avevo già fatto l'incontro con il regista però poi ero troppo alto e sono quelle piccole ingiustizie che però appunto se se non ti sei preparato prima psicologicamente magari non riesci a superare quindi non lo so ho risposto alla tua domanda sì grazie hai dato un bel messaggio assolutamente sì adesso tocca a Luigi di Gregorio prego Luigi ciao Andrea buonasera ciao Luigi dal tuo punto di vista sono meglio gli Stati Uniti o l'Italia per fotoconfilma allora dal mio punto di vista 50 e 50 allora secondo me in linea di massima è più facile produrre un film negli Stati Uniti perché la produzione di un contenuto quale che sia cerca di rispettare determinate leggi di mercato ossia se un film costa un milione è perché deve vendere per almeno un milione e mezzo questa è una regola molto brutale però ha permesso nel corso degli anni di evolvere e cercare di migliorare sempre di più quello che è il mezzo cinematografico fondamentalmente per vendere e allo stesso tempo se fai un prodotto che vende e fai un prodotto che diciamo ti permette di far guadagnare i tuoi investitori eccetera ti consentono di farne un altro in Italia invece c'è più una concezione europea del finanziamento pubblico per cui tu fai un film e riesci a produrre un film se sai il finanziamento del ministero della film commission tax credit eccetera se no è molto difficile che un produttore si imbarchi nella spesa di un milione di euro per fare un film questa cosa qua appunto ti dà più libertà da un punto di vista tra virgolette artistico espressivo perché appunto non devi fare un prodotto che piace alla gente e che sia commerciale cioè puoi esplorare molto di più da un punto di vista autoriale ma allo stesso tempo non c'è un meccanismo non c'è un'industria per cui tu puoi produrre un film anche se è valido cioè o becchi il finanziamento o non lo fai ci sono case di produzioni che magari hanno questo film per le mani che è un'idea molto bella e vogliono scommetterci sopra ma non lo producono finché non completano il budget con i soldi pubblici e quindi anche lì poi si creano tutta una serie di diciamo conoscenze di situazioni per cui insomma devi avere dei contatti anche all'interno del ministero per riuscire a ottenere dei finanziamenti e se non ce l'hai si è un po' tagliato fuori noi per esempio abbiamo quando abbiamo fatto il film Ulysses a Dark Odyssey l'abbiamo scritto negli Stati Uniti con James Coyne James Coyne era un ragazzo che lo scriveva con noi e lo scrivevamo da Starbucks perché non avevamo i soldi per ovviamente cioè avevamo a malapena i soldi per pagarci due burrito la sera quindi Starbucks era il nostro ufficio e l'abbiamo scritto basato sull'Odissea America però con un misto di Joyce e il finale con un'interpretazione nostra abbiamo fatto la sceneggiatura che è piaciuta molto negli Stati Uniti abbiamo anche avuto dei produttori che ce la volevano produrre però volevano stravolgere il contenuto della storia cioè intanto volevano che Ulisse alla fine scappasse con Calipso e quando mi hanno detto questa cosa a me praticamente mi è arrivato un colpo al cuore ma Ulisse è Penelope non può andare con Calipso non esiste è l'Odissea e sì però per il pubblico americano se l'eroe fa l'amore con un altro diciamo con un personaggio poi se lo deve sposare sono molto bacchettoni da quel punto di vista e io ho detto ma sì ho capito ma Ulisse fa mille esperienze però è Penelope non si può e in più volevano mettere sparatori esplosioni insomma fare una cosa un po' una tamarrata un'americana e noi ci siamo rifiutati e abbiamo cercato di produrlo in Italia ovviamente abbiamo fatto domanda al ministero abbiamo fatto domanda la prima volta e siamo stati i primi degli esclusi e fa ridere perché invece quell'anno lì avevano finanziato un film con Belen Rodriguez per carità niente contro Belen però il ministero della cultura per le opere prime e seconde eccetera che tra i vari criteri c'ha quanto è l'impatto culturale di un film metti il novissea con il film di Belen insomma c'è da discutere poi è successo che James Coyne l'autore con cui abbiamo scritto in America è entrato nella blacklist di Hollywood del 2015 ossia le 50 migliori sceneggiature di Hollywood in particolare a questo termine blacklist perché erano le sceneggiature che il governo durante il maccartismo indicava come comuniste quindi da non produrre e che ovviamente tutti gli artisti volevano fare quindi adesso il termine è rimasto però un'accezione positiva e comunque è entrato grazie alla nostra sceneggiatura nella blacklist Hollywood 2015 è stato notato da Guy Ricci e ha scritto Sherlock Holmes numero 3 quindi cioè è passato da Starbucks a scrivere una sceneggiatura con Guy Ricci a lavorare tutti i giorni con questi personaggi porti di questa notizia noi siamo andati abbiamo ripresentato la domanda al ministero dicendo abbiamo cambiato delle cose l'abbiamo aggiornata l'abbiamo perfezionata in più c'è anche questa notizia sperando di ricevere due soldi anche in quell'occasione siamo stati i primi degli esclusi e quindi ti dico è stato un po' frustrante perché per carità magari poi varie altre sceneggiature non migliori però non lo so si crea una sorta di di circolo vizioso anche sui soldi pubblici e purtroppo se non hai soldi pubblici se non hai finanziamento del ministero poi Rai o Mediaset non ti garantiscono la distribuzione insomma c'è un meccanismo che è un po' insomma secondo me da rivedere quindi questo è quello che è successo a noi negli Stati Uniti invece l'avremmo prodotto dopo sei mesi ovviamente con dei compromessi di altro tipo quindi cioè mettendoci le sparatorie e facendo scappare Ulisse con Calypso siamo un casino in entrambe le parti assolutamente informazioni davvero molto importanti e veritiere allora Alessandro tocca a te insieme ad Antonietta ciao Andrea buonasera ciao la mia domanda era come vedi Andrea fra dieci anni questo è difficile Andrea questo è difficile allora cercherò di dare una risposta abbiamo abbiamo nove minuti Andrea ok spero di metterci l'otto e mezzo di meno perché c'è Edoardo poi da che vuole chiederti l'ultima farti l'ultima domanda allora penso che spero di riuscire a essere fedele a me stesso e e ai miei sogni nel senso che ho sempre voluto lavorare nel cinema ho sempre voluto fare l'attore e anche quando è stato difficile farlo ho fondato la mia casa di produzione ho ho fatto dei film quando è stato difficile distribuirli mi sono eh creato un sistema di distribuzione quindi eh è stato molto molto ed è molto molto difficile e duro però eh spero di avere la forza di continuare a farlo e di incontrare sempre persone che eh nel mio cammino mi mi aiutino come hanno fatto fino adesso ehm non mi dispiacerebbe riuscire a a essere un punto di riferimento per per tutti quelli che vogliono vedere e realizzare un buon film mh cercando di scendere a meno compromessi possibili perché mh ho tanti colleghi che che hanno grandi difficoltà soprattutto adesso e quindi hanno ho ho torto collo necessità di lasciare il mestiere dell'attore o del regista dello sceneggiatore per andare a lavorare da Amazon e ovviamente cioè lungi da me giudicarlo anzi chissà che tra sei mesi non capiti anch'io però mh cerco di spero che spero che si riesca diciamo a risolvere questa situazione a diventare come categoria di filmmaker di produzioni anche indipendenti italiane un po' più forti spero di avervi risposto voi cosa fate? noi siamo alla ricerca di un qualcosa qualcosa che ci appassioni però ecco quella è la chiave quella è la chiave perché così quando la trovi uno non non conta più le ore non conta più la fatica non conta niente si va solo dritti esatto belle parole di incoraggiamento Andrea loro sono per la maggior parte anzi no si dividono tra Centola Palinuro non so se conosci quel territorio a sud della provincia di Salerno quindi Palinuro non so se hai mai sentito parlare di queste zone stupende di Costa Cilentana e altri sono di Castellabate il famoso paese dove hanno girato benvenuti al sud ok conosco l'invito rimane anche valido per te con Andy se dovesse insomma trovarvi in queste zone avete degli amici sin da adesso te lo dico poi noi insomma siamo molto accoglienti insomma ci piace molto soprattutto avere ecco delle conoscenze che vanno oltre insomma alla normalità e quindi voi siete dei personaggi assolutamente interessanti ho detto pure a Andy che ho avuto l'onore di conoscerlo figurati a Las Vegas non so se te ne ha parlato detto questo c'è Edoardo che ti vuole fare una domanda e poi magari ci salutiamo prego Edoardo Nel film Only Saints and Darkness hai ricettato con l'attore Danny Glover di Arma Letale esatto è stata una delle esperienze più incredibili della mia vita e non lo dico tanto per dire ma lo dico perché è stata veramente un un'opera maestra riuscire a convincerlo a venire in Italia a recitare per pochi soldi abbiamo dovuto praticamente organizzare a lui e alla moglie una vacanza in Italia contatto di tappe enogastronomiche nelle langhe eccetera l'abbiamo fatto in collaborazione col festival di Ischia che ha pagato un pezzo di volo per lui e la sua compagna e poi sono venuti a recitare a Torino una settimana forti del fatto anche ovviamente che hanno letto lo script e gli è piaciuto molto ed è stata un'esperienza incredibile perché noi arrivavamo da sei settimane di shooting in questo film io ero protagonista e quindi avevo una media di quattro ore di sonno per notte e c'è stato un momento in cui non capivo più niente e in tutto questo poi dove recitare con Danny Glover tra l'agitazione e tutto speravo di riuscire a fare qualcosa mi ero veramente veramente stanco ed ero agitato come alla prima recita all'elementare non so come dire ci siamo trovati in scena io quasi non mi ricordavo le battute veramente è stato un momento catartico e lui ha iniziato a recitare e non ho dovuto fare niente cioè lui con la sua personalità la sua energia la sua voce mi ha proprio accalappiato mi ha portato dentro le battute sono uscite così in maniera spontanea e una scena l'abbiamo girata in un'ora per me è durata cinque minuti è stata un'esperienza bellissima all'improvviso non ho più sentito la fatica lo stress tutto proprio perché è un grande professionista che insomma è veramente bello è stato veramente bello recitare con lui benissimo Andrea la domanda finale la fa Ivana e devi rispondere in un minuto perché poi in un altro minuto dobbiamo salutarci prego Andrea qual è il segreto per farcela eh il segreto per farcela è andare avanti puntare su se stessi e riuscire a superare le critiche soprattutto le critiche di quella vocina che hai internamente c'è un detto che non mi ricordo più orientale comunque dice è difficile scalare la montagna ma quello che ti ferma non è la distanza ma è il sassolino che hai dentro la scarpa una cosa del genere quindi non so per esempio nel nostro lavoro riceviamo costantemente delle critiche gente incattivita che sui social ti dice la qualunque perché magari non gli è piaciuto il film non lo so invidiosi sì non lo so comunque dicono delle cose abbastanza personali che sai dette così tra di noi fanno ridere però poi quando le leggi le senti fanno male no? ma sì bisogna cercare di concentrarsi invece sulle proprie armi e migliorare sempre di più quelle poi i risultati arriveranno benissimo grazie Andrea grazie mille per aver partecipato ti salutiamo e ci vediamo prestissimo grazie a voi allora vengo a trovarvi nelle vostre splendide terre ANG in radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio da Agropoli Generation è tutto progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di agenzia nazionale per i giovani grazie ai fondi del dipartimento politica giovanili e del programma europeo Erasmus Plus grazie a tutti